Che bei ricordi che ho di mia nonna, seduta con noi tutti intorno, davanti al caminetto che ci raccontava le favole. Lei è in poltrona e noi che ascoltovamo rapiti le sue storie fantastiche nel religioso silenzio, seduti sulle nostre sedioline, mangiando biscotti e ascoltando emozionati. La poltrona è un complemento d'arredo indispensabile in ogni casa, che nel corso dei secoli ha assunte innumerevoli forme e dimensioni. Esistono vari tipi di poltrona, per la lettura, per il relax, per il cinema, per il soggiorno, reclinabili, eccetera. La poltrona che venite raffigurata nelle slide del video è una poltrona da caminetto Cipendal di circa 150 anni. Viene chiamata da caminetto per chi ha le gambe più corte delle protone standard e stare più comodi. In questa poltrona abbiamo ripristinato lo schienale in paglia di Vienna, consigliando anche di far ripristinare la seduta perché fuori squadro. Il lavoro da noi effettuati sono sbagliatura, ripugliatura dai fori, trattamento antitarlo, fiusura dei fori lasciati dai tarli, impagliatura dello schienale e lucidatura. Le impagliature le effettuiamo sempre completamente a mano, come si può vedere nel video. In questo caso abbiamo usato paglie di Vienna ad altissima qualità da 2 mm.